Geat cambia direttore dopo Tommaso Morelli, arriva infatti Giuseppe Brezza, nuovo direttore di Geat, l'incarico di Morelli scadeva proprio il primo aprile, data di entrata in vigore al lavoro per Giuseppe Brezza, nato e vive a Riccione da sempre, 56 anni. La sua prima esperienza lavorativa è stata in Amno, racconta, era il 1978. Tanti auguri dunque di buon lavoro al nuovo direttore.